Il Paradiso, anticipazioni al 21 aprile, Roberto Di Marco e Gemma, Umberto indaga. L'appuntamento con il Paradiso delle Signore è confermato dal 17 al 21 aprile 2023 con nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano dense di colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci sarà il rapporto sempre più intenso tra Gemma e Marco, il quale finirà per attirare i sospetti e i dubbi da parte di Roberto. Marcello, invece, si ritroverà a fare un'amara scoperta sulla contessa mentre Umberto deciderà di indagare per scoprire cosa sta succedendo realmente. Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate del Paradiso delle Signore previste fino al 21 aprile 2023 rivelano che Gemma deciderà di annunciare alle sue colleghe di lavoro la novità importante che la riguarda. La Venere annuncerà così di essere in procinto di convolare a nozze con Roberto Landi, una rivelazione che lascerà tutti senza parole. Dato che prima di questo annuncio nessuno sospettava della relazione tra i due. Intanto, però, Gemma porterà avanti il suo legame speciale con Marco, i due appariranno sempre più vicini e complici assieme. Nonostante il ragazzo abbia ribadito di non essere ancora pronto a lasciarsi alle spalle il passato e la fine della sua storia d'amore con Stefania. Sta di fatto che, questo sospetto tra Marco e Gemma non passerà inosservato agli occhi di Roberto. Il quale inizierà a sospettare che tra i due ci sia ancora qualcosa lasciato in sospeso. E poi ancora, le nuove anticipazioni del Paradiso delle Signore nella settimana dal 17 al 21 aprile rivelano che Marcello scoprirà le bugie della Contessa. Il giovane Barbieri si renderà conto che la sua amata gli ha mentito in merito al viaggio a Leone e non riuscirà a spiegarsi il perché di queste bugie. Intanto, però, anche Umberto vuole sapere e capire cosa sta succedendo nella vita della donna, il commendatore non riesce a spiegarsi cosa ci sia dietro le ultime mosse di Adelaide e decide così di mettersi sulle sue tracce. Umberto si dirà pronto di seguire la Contessa perché vuole sapere che fine abbia fatto e qual è questo segreto che sta nascondendo a tutti. Un interesse decisamente eccessivo quello di Umberto nei confronti della sua ex compagna. Racconto da scatenare la reazione negativa e contrariata di Flora. E poi ancora, le anticipazioni di queste nuove puntate del Paradiso delle Signore fino al 21 aprile rivelano che Vittorio deciderà di offrire a Maria l'incarico come nuovo stilista del suo grande magazzino. Matilde, invece, si ritroverà a dover riaprire una vecchia ferita del suo passato, quella legata all'incendio e al mobilificio. Dato che proprio nel corso dei prossimi episodi, la polizia riuscirà ad arrestare coloro che sono considerati i responsabili di quanto è accaduto. di quanto è accaduto, la polizia riuscirà ad arrestare coloro che la polizia riuscirà ad arrestare coloro che soffri il risultato, cioè la polizia riuscirà ad arrestare coloro che